Noi mettiamo in sicurezza in maniera permanente o temporanea tutto ciò che viene fatto da due metri dal piano e dal pestio e tutto ciò che viene fatto all'interno di silos o di vasche. Recuperiamo, in caso di fortuni o svegliamenti, di malore in quota o sotto il suolo, abbiamo le attrezzature e l'addestramento per recuperare in poco tempo le persone. Genesi è cura e protezione di chi lavora. Tuteliamo la vita delle persone dai rischi di caduta dall'alto, dai rischi nell'accesso e recupero in spazi confinati. Lo facciamo affiancando i responsabili della sicurezza, gli HSE, partendo dalla valutazione del rischio, passando da una progettazione curata e completa, continuando con l'installazione fatta dal personale nostro qualificato, chiudendo quel ciclo con un'emissione in certificazione e piombo identificativo, che permette all'HSE di avere una tracciabilità completa della messa in sicurezza di ogni luogo lavorativo. Durano Azienda è stata un'esperienza assolutamente stimolante ed è interessante vedere come le idee possano concretizzarsi grazie alla passione e al credo di persone, soprattutto in questo caso in cui l'idea ha come base la tutela e il rispetto della vita umana. Due ore in azienda è stato sicuramente un incontro molto interessante del lavoro di squadra, la sicurezza e soprattutto la capabilità di imprenditori sportivi. Vedere così vicino al mondo delle aziende con il mondo dello sport è sicuramente un valore aggiunto importante per tutte le aziende del territorio e per l'eccellenza italiana. La sicurezza è stata il life motive con cui anch'io ho costruito la mia carriera alpinistica e se sono vivo a 50 anni è perché tante volte ho messo prima la testa che il cuore, quindi ragionare le cose e non fare cose di impulso. I concetti che ci legano non sono solo tra noi due ma anche il modo che abbiamo noi di approcciarci al mondo. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!